Ben trovati amici di Indie Life Radio, questa è La Luce Sei Tu, la trasmissione del venerdì sulla realtà extraterrestre, benvenuto Sante Pagano, grazie per essere ancora con noi e a darci delle preziosissime informazioni nel nuovo millennio, del nuovo millennio e in prospettiva di un futuro che tutti ci auguriamo possa regalarci pace e serenità. Buongiorno Sante. Ciao Vincenzo, buongiorno e caro saluto a tutti. Con grande piacere che ti accogliamo anche oggi, consapevoli che ci lascerai delle bellissime emozioni e soprattutto delle bellissime consapevolezze con quello che ci dirai. Il tuo lavoro è svolto egregiamente sui canali su cui noi saremo in replica successivamente, il canale Progetto Coscienza Cosmica e anche il canale YouTube, quindi salutiamo anche gli amici che ci stanno vedendo oltre che sentendo attraverso la radio. È un periodo molto difficile per la nostra umanità e ho visto che anche il tuo lavoro è concentrato sulle questioni che riguardano la guerra. Qualche email, anzi ne approfitto per ricordare l'indirizzo email della nostra trasmissione, la luce sei tu chiocciola gmail.com al quale potete indirizzare le vostre riflessioni. Qualcuna di queste si è posto il problema della guerra. È inevitabile, è un momento in cui se ne parla in tanti e soprattutto da parte della gente c'è questo bisogno molto forte di avere delle risposte. Ci si affida all'intelligenza dell'uomo, ma l'uomo è intelligente, Sante, dal tuo punto di vista. Ma dal mio punto di vista assolutamente no, ma anche da un punto di vista oggettivo, perché la situazione in cui viviamo lo dimostra in maniera veramente palese. È palese, perché insomma l'altro giorno ho pubblicato un video dove, certo, oggi viviamo la guerra, ma queste comunicazioni noi le riceviamo da decenni. Non dimentichiamoci che ci sono molti altri problemi nel pianeta Terra, tra la fame nel mondo, le malattie. Anche le malattie sono un grande problema che andrebbero viste prima di tutto da un punto di vista spirituale, etico e morale, perché c'è dietro tutta una scienza che purtroppo quella ufficiale non ci rivela, ma che noi tramite i nostri fratelli dello spazio conosciamo. Ci sono tantissimi problemi che attanagliano a questo pianeta, quindi l'uomo è intelligente in potenza, ma non mette in pratica purtroppo, come anche la nostra Costituzione. È molto bella, ma non viene messa in pratica. Non viene messa in pratica. Una delle questioni più spinose riguarda proprio questo bellissimo libro da leggere, insomma immaginatelo come volete, la Costituzione sicuramente, la nostra Costituzione, la Costituzione italiana, conserva dei propositi molto precisi relativamente alla guerra. Di questo ce ne dimentichiamo e avremo anche motivo per rimproverarci da quel punto di vista di consapevolezza di quello che succede veramente al nostro pianeta. Non è di qualche altro, è il nostro. Sì, guarda Vincenzo vorrei approfittarne della mail che hai ricevuto, che è un'osservazione di questa vostra ascoltatrice interessante, perché si unisce alle varie decine di osservazioni, tutte uguali che io sto ricevendo da quando è scoppiata questa guerra fortemente profetizzata in questi decenni. Allora, io ho fatto un confronto su come, non per altro, ma per un discorso oggettivo, di come personalmente io insieme ad altre persone che si sono preparate ormai da decenni al riguardo, che io personalmente vivo questa cosa in maniera molto tranquilla e serena, ma non perché io, perché la guerra sia una cosa bella o altro, ne ho coscienza, ho fatto un lavoro, già ormai sono dieci anni che lavoro al riguardo, era una consapevolezza forse inconscia che già avevo nel mio sentire interiore, perché vedevo che nel mondo c'erano cose che non andavano, però quando ti metti di fronte a delle civiltà che ti forniscono determinati comunicati profetici che oggi vediamo avverarsi, fai due più due e capisci che è importantissimo prendere consapevolezza. Quindi sulla ragione d'essere di oggi, di tutto questo timore, queste ansie che vediamo generarsi dal nostro interno per ciò che sta accadendo, ecco, questo forse a questo punto è il momento migliore per poter recuperare tutta la conoscenza che abbiamo perso, che potevamo già recuperare prima di oggi, visto che comunque sia gli strumenti ci sono. A scanso di equivoci, volevo sottolineare, visto che oggi leggeremo alcuni di quei messaggi che tu hai citato, questi non devono servirvi necessariamente per credere di più o credere di meno, a quello che noi vi stiamo dicendo. Vi prego di concentrarvi sul dito, sulla luna e non sul dito. Ammesso che non vogliate fare la fine degli stolti, no? Che guardavano il dito, non guardavano la luna. E quindi se oggi vi leggeremo alcuni messaggi e li commenteremo insieme a Sante Pagano, dei fratelli cosmici, è solo per sottolinearvi come queste informazioni sono state presenti lì, messe in un angolo, anzi abbandonate in un angolo per molti versi, nel senso che non sono stati presi in grande considerazione, ma poi si sono, come dire, resi autentici da soli. Nel senso che i fatti sono andati così per come dicevano i nostri fratelli. Dal momento che noi non siamo stati capaci di prendere per mano questa situazione complicata, dove alcuni potenti decidono il bello e il cattivo tempo sul nostro pianeta, e noi glielo lasciamo fare, si stanno presentando come qualcosa di già annunciato. Ecco, da lì la tua serenità nel dire sto affrontando a questo momento consapevole di quello che i nostri fratelli, che sono sempre a tutela di ciò che noi facciamo su questo pianeta, ci avevano già comunicato. Ad esempio so che ci sono moltissimi messaggi, anche di contattati non molto nuovi, nel senso che non sono più in vita, l'hanno fatto in tempi molto remoti, ad Amski ad esempio. Certo, allora premetto di dire questo Vincenzo, che per quanto questi comunicati possono avere una luce un po' eterica, spirituale, un po' campata in aria, mi preme sottolineare che comunque sia sono discorsi che comunque stanno avendo una logica oggettiva, e quindi non ci stiamo basando su credenze, questo io lo dico sempre, ci sono documenti che hanno una rilevanza reale, basta andare nelle sedi apposite, questi risalgono agli anni 50, agli anni 40, addirittura nella Bibbia, che ha migliaia di anni che è stata pubblicata, già lì si parlava di terza guerra nucleare, certo con i termini di allora, ma come facevi a pensare che ad oggi sarebbero esistite armi in grado di distruggere nazioni intere? Come facevano nel 2022 almeno, come faceva Cristo a dire, guardate, fate attenzione perché ci saranno guerre dove gli uomini avranno strumenti capaci di annientare nazioni intere? Come facevi che non avevano forse neanche le pistole, neanche la polvere da sparo? Ecco, quindi noi dobbiamo fare attenzione e studiare in maniera oggettiva, non sul sentimento, sulla credenza, sull'opinione, sull'opinione, perché se no tutto decade e quando veramente queste cose risuccederanno, perché adesso ci sarà, penso, un periodo di quiete, ci ritroveremo come adesso che ci mandate email dove siete preoccupati, quindi prepariamoci ma in maniera oggettiva, vedendo la realtà dei fatti, se no tutto è inutile, anche questi comunicati diventano inutili, come diventa inutile anche il tempo speso nello studiare voi personalmente. Ecco, quindi questi messaggi, che però voglio dedicarmi a questi ultimi, la Bibbia è tutto un altro discorso molto più complicato, perché ha una terminologia diversa, esatto, ci sono contattati non più in vita, ma anche in vita come Giorgio Bongiovanni, e tra questi ci sono Menger, Adamski, anche Eugenio Siragusa, padre spirituale di Giorgio Bongiovanni, il quale ha continuato il suo percorso operativo. E già allora, negli anni 40 e 50, si parlava del grande pericolo che l'energia nucleare che rischiavamo di porre in essere addirittura nella vita del nostro pianeta intero, non solo la specie umana, addirittura si parla di conseguenze per l'intero sistema solare, e quindi di altre popolazioni, perché comunque le radiazioni viaggiano, non è che si fermano in qualche modo, se non tramite una forza esterna, come hanno fatto questi esseri, che ce lo hanno detto in questi comunicati, ma lo hanno dimostrato. Guarda, Vincenzo, sono stati eseguiti talmente tanti esperimenti, parliamo anche di esperimenti nucleari, non solo detonazioni che hanno ucciso purtroppo persone, che noi oggi non potremo più abitare questo pianeta, sarebbe già un deserto privo di vita, invece c'è stata una forza esterna, e malgrado questo l'uomo ha continuato ad esercitare la propria violenza demonica tramite questi strumenti. Dobbiamo anche considerare che l'esperienza dei fratelli cosmici è relativa anche ad altre civiltà che nell'universo hanno fatto percorsi di autodistruzione, quindi se loro ci vogliono prendere per mano in un momento così difficile, è perché sanno quale sarebbe la deriva di un'autodistruzione, e comunque di una compromissione di equilibri cosmici che ci sono. Guarda, c'è una frattura sul pianeta Marte lunga chilometri, 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 che è stata generata proprio dallo scoppio di un pianeta che si chiamava Mallona, che fece proprio questa fine a causa degli armamenti nucleari. Ecco, se si fa una ricerca delle foto di Marte tramite la fonte ufficiale della NASA, andiamo a vedere che queste foto sono censurate. in alcune ci sono delle vere e proprie ricostruzioni di assemblamento che fanno sì che i conti non tornano. Ecco, quindi anche questi comunicati sono attentamente visionati dalle nostre agenzie americane segrete, le quali parlano senza problemi di presenza di civiltà extraterrestri. anche il nostro Giorgio Bongiovanni è molto attenzionato da queste agenzie e dai governi stessi. I comunicati sono una cosa serissima. Loro sanno e conoscono molto bene la tecnologia che si nasconde dietro le comunicazioni telepatiche. Ci sono documenti delle FBI che ne parlano in maniera molto concreta. hanno fatto loro stesse sperimentazioni anche di teletrasporto. Noi ci nascondono tantissime cose purtroppo perché la tecnologia come l'etica ci farebbero evolvere. Quindi ecco, se parliamo in questi termini è perché c'è dietro già un processo di lavoro. Quindi io se pongo la mia fiducia su questi comunicati è proprio grazie ad una base di studio di scienza, di analisi, di dati oggettivi. Perciò ascoltateci per quello che diciamo. Poi deve conseguire un lavoro di ricerca, di perfezionamento, di analisi. Ecco, se no è tutto inutile. Io aggiungo che oggi il compito degli esseri umani che si fanno delle domande a cui non hanno risposta perché non possono avercela. cioè nel senso che tutto questo è fuori dal nostro concetto di umanità di dedicarsi alla preghiera alla preghiera per la pace. Ecco, noi siamo in due ma tantissimi ascoltatori nelle scorse puntate ci hanno premiato con tantissime presenze sui social network eccetera. Ma dico così per come è scritto sulle Sacre Scritture è necessario che ci siano almeno due persone che stanno facendo e in mezzo a noi c'è Dio con la sua mano santa che riesce a colmare le mancanze degli esseri umani. Quindi preghiera per la pace. Quella nostra vuole essere questo. Proprio dedicandosi alla lettura di determinati messaggi e alla consapevolezza extraterrestre possiamo veramente cambiare il mondo. Non è una sciocchezza che vi sto dicendo ma vorrei che tutti entrassero nell'ottica che le nostre preghiere non sono semplicemente qualcosa che noi chiediamo al creatore per averne in cambio un ritorno personale ma possono essere anzi devono essere quelle di una consapevolezza di quello che è il nostro mondo e di come dobbiamo fare per tenercelo stretto. Esatto Vincenzo poi si apre un capitolo importante a riguardo perché pregare è una cosa molto utile e interessante bisogna imparare anche a farlo in maniera corretta. Però ecco bisogna sempre iniziare dalla base questo sì. Guarda Vincenzo ti vorrei leggere proprio un estratto se non tutto di un messaggio che risale a 2014 senza andare troppo indietro ma poi potremmo farlo ricevuto da Giorgio Bongiovanni l'altro giorno leggevo adesso il terzo segreto di Fatima all'improvviso destra un interesse pubblico perché quando ce la facciamo sotto andiamo ci appoggiamo al divino come è giusto che sia ma non deve essere così riletto in una chiave un po' diciamo così commerciale ma in realtà il terzo segreto di Fatima esiste da decenni parla in maniera molto chiara di ciò che accadrà ecco il fatto che i giornali ne parlino significa qualcosa ma i fini non sono mai quelli che noi ci aspettiamo ecco questo bisogna dirlo bene questa guerra già nei comunicati del 2014 ricevuti da Giorgio Bongiovanni ma anche prima ne ho altri risalenti al 2007 se non sbaglio parlano già di questo conflitto futuro è possibile tra gli USA e la Russia ecco te lo voglio leggere il titolo fa così venti di guerra sulla terra Armageddon sempre più vicina quindi Giorgio riceve questi comunicati a volte non riusciamo mai a capire immediatamente perché li riceve la correlazione è proprio perché c'è bisogno che loro diano dei segni oggettivi della loro presenza della loro attenzione nei nostri riguardi anche perché ho trovato anche messaggi dove spiegano come fanno a profetizzare a rivelare in maniera molto anticipata determinati eventi e poi magari possiamo leggere anche un estratto di quel messaggio lì allora te lo inizio te ne leggo un pochino vediamo se riusciamo i nostri ascoltatori ricordando che moltissimi di questi messaggi se non tutti sono reperibili presso il sito di Giorgio Bongiovanni Bongiovanni Family si chiama il sito de Bongiovanni Family e Bongiovanni Family quindi se volete controllate leggete voi stessi incuriositi magari da quello che noi stasera vi stiamo raccontando prego Sanse allora Setun Shenar comunica avete dimenticato la bestia che viene dal mare è quella che viene dalla terra quindi USA e Russia nel 2014 l'una diabolica e sanguinaria l'altra pure vi abbiamo detto numerose volte per tanto tempo con pazienza e infinito amore che noi esseri di luce non siamo né con l'accidente né con l'oriente e già questa cosa dovrebbe farci riflettere perché oggi no si parla di oggi si è sempre parlato di guerre sante le guerre non sono mai sante bisogna sempre cercare il dialogo e certo l'altra volta parlavamo di interventi difensivi c'è una forza interspaziale che deve grazie a Dio intervenire quando superiamo determinati limiti ma mai per offesa dobbiamo riscontrare però obiettivamente nei padroni dell'occidente il desiderio sanguinario e violento dell'odio e dell'arroganza rispetto ai potenti della Russia i quali nel caso specifico della crisi che coinvolge la nazione dell'Ucraina quindi già c'era qualcosa che si muoveva nel 2014 avevamo il Donbass che oggi non solo ci siamo dimenticati ma mai abbiamo approfondito al riguardo perché esiste solo quello che la tv vuole che esista agiscono difendendosi dalla menzogna e dall'inganno ciò non assolve i potenti della Russia ed il loro presidente da porre in essere una politica con azioni militari violente per niente a favore della pace quindi ecco vedi questa è una visione vedere la realtà dei fatti quale è però denunciare la risposta a determinati azioni violente la guerra non è mai giustificabile ecco questo è il discorso dove dobbiamo entrare oggi purtroppo vediamo che tanti prendono la parte di una o di un'altra azione non possiamo farlo possiamo motivare possiamo comprendere certe dinamiche che comunque sia c'è dentro di noi un aspetto che è quello della sopravvivenza dell'autodifesa che bisogna metterlo in pratica certo ma sempre senza andare contro le leggi universali questo è importantissimo poi faremo una puntata no Vincenzo per parlare di queste leggi noi alieni come voi ci definite vedi anche l'ironia in ogni caso non saremo mai alleati e complici di nessuna delle due fazioni in lotta vogliamo ricordarvi inoltre che i mezzi scientifici che noi possediamo potrebbero né traulizzare in otto minuti del vostro tempo ogni tipo di attività bellica anche nucleare possa in essere sulla terra se dovesse esplodere un conflitto mondiale noi anche questa volta ci permettiamo di intervenire solo con il verbo che si fa parola attraverso lo scrivente solo per ricordare agli abitanti della terra che la nostra missione in caso di conflitto atomico è quella di porre in salvo alcuni milioni di persone uomini donne centinaia di milioni di bambini con le nostre cosmiche astronavi questo intervento avverrebbe per volontà di colui che voi chiamate Dio e che noi adoriamo come intelligenza suprema del cosmo poi il messaggio continuo però qui c'è un sacco di cose su cui approfondire guarda Vincenzo vorrei porre una riflessione proprio su questa frase noi anche questa volta ci permettiamo di intervenire solo con il verbo ecco perché le potenze mondiali investono sulle bombe investono su armamenti di guerra e morte invece che investire sulla diplomazia sull'amore sulla fratellanza ma anche anche con la parola soprattutto perché perché scusa un un governante di una nazione non può ad un certo punto iniziare a fare un discorso che riguarda non solo la sua nazione ma il mondo intero iniziare a dire che il modo in cui questa società è basata è demoniaco e diabolico ma è falimentare perché non puoi basare le tue capacità le tue azioni le tue volontà su un pezzo di carta ecco questi discorsi perché non li leggiamo perché sono scomodi perché comunque sia sappiamo anche la fine che molte persone anche presidenti americani l'altra volta parlavamo di john kennedy il quale in quel famoso discorso in cui si rivolgeva non solo alla sua nazione ma al popolo globale del pianeta terra intero noi dobbiamo iniziare a fronteggiare il nostro futuro in maniera pacifica no? ecco non ci appartengono queste logiche universali a noi appartengono le logiche umane che sono quelle della sopraffazione la morte e la distruzione purtroppo no dico peraltro c'è anche la missione di Giorgio Bongiovanni che mi piace ricordare relativamente agli armamenti perché è un'unica voce nel mondo dell'informazione che ci racconta ormai da anni attraverso il suo giornale antimafia 2000 il quale ringraziamo ecco per la grande opera di verità che sta svolgendo ormai da molti anni e ci racconta da molti anni come la tendenza sia quella ad armarsi fino ai denti a trovare delle soluzioni che invece potrebbero essere adottate per il miglioramento della qualità della vita dell'equità che ci sono nelle società che sono gravemente compromesse penso ai paesi poveri penso anche ai paesi considerati ricchi adesso impoveriti ma certo sì Vincenzo prima parlavamo del sito di Buongiovanni che si chiama The Buongiovanni Family perché noi siamo una vera e propria comunità una comunità di persone che già vivono questi valori di rispetto di amore fratellanza tolleranza perché nessuno è perfetto noi siamo consapevoli del fatto che c'è da crescere c'è da destrutturarsi di tutta quella serie sistematica di punti sulla quale abbiamo fondato la nostra esistenza fai al prossimo quello che più ti garma come dicono i toscani invece non funziona così bisogna amarsi e rispettarsi ecco e noi certo la preghiera è importantissima come dicevi tu noi ci basiamo soprattutto sull'opera la preghiera la utilizziamo come comunicazione con il cielo per ricevere segni su come adoperarci su come muoverci e abbiamo una serie di azioni sociali rivolte alla lotta alla mafia all'aiuto al prossimo alla appunto alla divulgazione della conoscenza anche perché l'opera senza la conoscenza è nulla io purtroppo sono stato in molte associazioni in molte comunità prima di questa e vedo che noi spesso cerchiamo di fare il bene più che altro per un tornaconto personale non disinteressato e lì vedi che affiorano discorsi di ego dove tutti vogliamo fare le prime donne dove tutti vogliamo primeggiare sull'altro invece ecco l'azione sociale deve essere sempre accompagnata da un'opera di lavoro su se stessi ecco noi c'è tutto questo insieme di cose che portiamo avanti e che ci rende quindi tranquilli sereni consapevoli della realtà dei fatti che c'è oggi e che andrà a determinarsi in futuro perché la guerra la terza guerra mondiale ci sarà inutile che ci stiamo a dire che tutto andrà bene tutto andrà bene per forze esterne perché c'è un terzo incomodo che usa e russia nato e tutti i vari strapoteri non hanno compreso il terzo incomodo sono questi esseri cosmici interplanetari potentissimi che sono capaci adesso lo leggiamo l'abbiamo già anticipato di bloccare tutto in un attimo quindi anche per questo noi siamo tranquilli il problema è che loro bloccheranno le conseguenze di determinate azioni solo per chi se lo sarà meritato funziona così l'universo non premia gli assassini chi ignora volutamente chi è accondiscendente o chi fomenta questo sistema criminale e si gira dall'altra parte dobbiamo meritarcelo vincenzo se no ci prendiamo in giro l'universo se funzionava con le logiche umane dove tutto va a tutti sarebbe un deserto di morte purtroppo invece ci sono delle dinamiche di difesa per far sì che tutto si evolva sono quelle esortazioni precisamente di Giorgio Bongiovanni continue ripetute che a me piacciono tanto quelle all'azione perché ecco giusto per rispondere anche ad altri messaggi giunti alla nostra email laluce sei tu chiocciola gmail punto com delle esortazioni all'azione perché la cosa che ci chiediamo tutti è ma quali sono le cose che noi nel nostro piccolo possiamo fare io metterei in primo piano proprio l'essere consapevoli di determinate cose piuttosto che di altre è inutile che ci lanciamo in analisi di politica internazionale quando siamo arrivati al corriere dello sport mediamente dico ci saranno anche quelli che ne sapranno parlare però ecco non teniamo conto di questioni molto importanti che sono un po' quelle che oggi vi stiamo raccontando l'esortazione all'azione Sante so che per te è come sfondare una porta aperta perché tu sei molto attivo e anzi mi auguro in futuro di poter ospitare anche altre realtà associative che possano raccontare quest'azione ma come la consiglieresti tu quest'azione nelle piccole azioni quotidiane ma bisogna sempre partire per gradi prima di metterci in opera io penso che sia necessario un serio e sincero atto di confessione nei confronti di noi stessi che c'è del lavoro da fare proprio a livello personale la preghiera è anche introspezione anzi forse soprattutto introspezione esattamente bravissimo questo deve essere una una pratica che poi deve diventare costante presenza interiore nella nostra azione proprio c'è cioè noi ormai siamo arrivati in un punto in cui preghiera e azione si fondono camminano insieme non c'è più un atto dedicato solo a uno all'altro tutto è costantemente presente 24 ore su 24 anche mentre sogno ormai Vincenzo io ragiono rifletto analizzo sono malato lo so ma è una malattia dettata dall'amore che ho verso il mio pianeta il cosmo il messaggio soprattutto perché senza il messaggio non si può partire quindi cerchiamo di capire qual è il messaggio ossia ama il tuo prossimo come te stesso ecco altra riflessione amiamo noi stessi se non amiamo noi stessi ragazzi non possiamo partire amare se stessi significa iniziare un percorso di di attivazione nei confronti del prossimo quindi già da lì noi possiamo metterci in correlazione con noi stessi ecco proprio nel momento in cui inizieremo a metterci in opera con gli strumenti ce ne sono tantissimi la nostra comunità la nostra le nostre associazioni sono un esempio ma ce ne sono tante altre non non per forza bisogna scegliere una o l'altra certo come dicevo prima ci sono realtà che eseguono azioni non sulla base del messaggio puro e vero in maniera oggettiva lo dico se non si è prima di tutto amici nelle associazioni non si potrà andare avanti ci saranno sempre disguidi non ci sarà mai tolleranza e rispetto quindi prima partiamo da questo e poi possiamo proseguire in tanti discorsi noi siamo attivi in tantissimi rami lo dicevo prima Vincenzo ad esempio tra poco ci sarà l'evento del 19 luglio per ricordare le stragi di Paolo Borsellino questi sono tanti esempi dobbiamo unirci in questi eventi santificare le feste significa proprio questo rendere onore a quei giusti a quei santi che hanno sacrificato la nostra la loro vita per noi che ci siamo dimenticati ma che tutti i giorni vanno ricordati nell'azione e poi ci sono tante altre realtà noi per esempio qui nel nord d'Italia in collaborazione con il gruppo Varese perché siamo tanti gruppi che collaboriamo attraverso Funima aiutiamo una quarantina di famiglie in situazioni disastrose Vincenzo l'altro giorno mi raccontava un collaboratore che hanno conosciuto una nuova famiglia con la bimba che è sempre raffreddata con la sinusite però i genitori per vergogna non ci hanno mai detto nulla ecco questi vivono in uno scantinato senza riscaldamenti frigo vuoto cioè capisci che siamo in una situazione veramente grave e poi mi apro il telefono e vedo non che ce l'abbia con loro ma tutti questi influencer che ci influenzano anche loro sì ci influenzano e come altro che il denaro questi valori materiali il cibo sono cose belle ragazzi ma tutto va canalizzato nella maniera giusta prima dobbiamo prendere consapevolezza del nostro vicino come sta altrimenti non c'è evoluzione e crescita questo è il problema diventa ulteriormente importante quindi conoscere queste comunità e noi presto lo faremo la luce sei tu si sta già impegnando a contattare un po' di queste realtà che possono far sì che certe cose non rimangano nascoste al pubblico e allora un tempo si diceva fai il bene ma fallo in silenzio e questo è onorevolissimo perché in effetti lo dobbiamo fare senza guardare a chi stiamo facendo il nostro bene quello potrebbe anche essere un angelo dico ce lo dicono le sacche scritture mica me lo sto inventando io però secondo me diventa anche necessario ecco per dare l'esempio per dare l'input perché non dobbiamo dare per scontato che tutte le persone sappiano che le loro piccole azioni la loro consapevolezza che è una cosa astratta di cui non si parla mai consapevolezza di se stessi consapevolezza degli altri consapevolezza del mondo in cui viviamo consapevolezza della realtà extraterrestre ci sono tante consapevolezze che dobbiamo conquistare quella delle persone che hanno più bisogno di noi comprende anche appunto questa azione che è l'azione che è quella che ci è stata suggerita torniamo ai messaggi perché era interessante non tanto per la meraviglia che loro avessero già previsto i conflitti ma tanto perché loro sapevano che sarebbe andata a finire così e quindi dobbiamo non dico rassegnarci ma anzi alzare la testa e oggi essere più consapevoli di prima ad esempio ho visto nella mia città c'è qualcuno che mette le bandierine della pace sull'antennino dell'auto e anche quella è un'azione un buon proposito sicuramente denota che questa persona ama la pace però io mi chiedo quali azioni seguono a questa manifestazione di vicinanza esatto noi siamo degli etichettatori Vincenzo questa è l'era degli etichettatori dove ci mettiamo la spilletta e tutto va bene ma in realtà no non funziona così e i messaggi sono molto severi a riguardo ragazzi bisogna metterci in atto ma non perché dobbiamo far contento il fattore esterno extraterrestre l'essere evoluto no noi dobbiamo farlo prima per noi stessi io sento una forza di amore di gratitudine che mi esplode ogni volta nei confronti del cielo che mi ha dato questa opportunità perché fa bene prima di tutto a me stesso servire il prossimo Vincenzo quindi facciamolo prima per noi perché l'amore per se stessi deriva dall'amore verso il prossimo questo dobbiamo mettercelo in testa altrimenti non si va avanti anche questa è una legge non c'è poco da studiare le leggi sono leggi allora guarda Vincenzo se vuoi possiamo andare nel 1979 dove il nostro potentissimo Eugenio Siracusa grande contattato italiano e padre spirituale del grandissimo Giorgio Bongiovanni già allora si parlava di un possibile conflitto atomico nucleare e ci fu un comunicato molto molto famoso nella nostra nicchia che si chiama 8 minuti ecco questi sono gli 8 minuti che le potenze celesti ci danno per si danno diciamo che sono è una tempissima che gli è stata data da gerarchie superiori per poter intervenire come dicevamo l'altra volta loro non possono intervenire direttamente farebbero un errore gravissimo ci metterebbero nella condizione in cui tutta questa sofferenza che noi stiamo oggi vivendo la dovremo rivivere perché non avremo preso consapevolezza se qualcuno interviene interviene prima di questo atto di questo processo mentale spirituale cioè ci lasciano il libero arbitrio quello è un argomento che poi tratteremo magari in un'altra puntata però è interessante connotare come il libero arbitrio ci rimanga esatto si Vincenzo è come se tu stai per mettere la mano sul fuoco e continuamente ti viene impedito di farlo tu non prenderai mai consapevolezza il fatto che ti bruci e quindi ci sarà sempre questo loop allora ammonimento indirizzato ai capi politici e militari del pianeta terra otto minuti del vostro tempo per rimobilizzare totalmente ogni tipo di attività sul vostro pianeta questo intervento diverrebbe immediatamente esecutivo qualora si verificasse un conflitto atomico tra due o più potenze vi abbiamo più volte appalesato che controlliamo attivamente e costantemente tutte le strutture che rivestono caratteristiche particolari di potenziale bellico nucleare la nostra presenza non è visibile né è sondabile dalle vostre strumentazioni elettroniche la nostra attività sorvegliatrice non si limita alle sole superpotenze i nostri mezzi per voi fantascientifici si riveleranno operanti al momento opportuno come dicevamo se ciò si rendesse necessario variazione della gravitazionalità e mutamento del magnetismo terrestre sarebbero i primi mezzi di dissuazione seguiti da altri più convincenti disgregazione della forza coesibile della materia inorganica cioè tutto si destruttura tutti gli oggetti immateriali si sciolgono si polverizzano e conversione dei venti solari onde di magnetismo anomalo capaci di bloccare immediatamente ogni tipo di circuito elettromagnetico assorbimento totale di ogni tipo di energia cioè capisci la potenza tecnologia devastante che hanno queste civiltà e lo hanno anche dimostrato in censo ci sono documenti testimonianze dove questi personaggi interstellari potentissimi hanno disattivato contemporaneamente decine decine di missilistiche basi intere nucleari dove i militari al loro interno sono rimasti sbalorditi perché non era possibile che automaticamente succedesse una cosa del genere per attivare queste testate o comunque queste armi erano necessari dei controlli incrociati nei film si vede normalmente che hanno delle chiavi eccetera quindi loro stessi non se lo spiegano come sia accaduto che tutto sia andato in tilt proprio nel momento clou assolutamente poi contemporaneamente si fanno vedere ovviamente perché il messaggio deve essere chiaro anche quelle sono comunicazioni la loro presenza è costante già da quando esplose la prima bomba atomica che poi ci fu il famoso UFO crash già lì ci furono i primi segnali che volevano attenzionare l'uomo sul rischio che si stava correndo quindi la loro presenza è sempre stata concreta basta soltanto fare le opportune ricerche riguardo e continuo questo nostro ammonimento non vuole essere una sfida ne deve considerarsi una ingerenza per dominio o conquista del vostro pianeta ma deve intendersi un atto d'amore per impedire il ripetersi di una immane catastrofe che in un remoto tempo costò la vita a miliardi di esseri viventi su altri pianeti ora ridotti a stanze inospitali e prive di vita come dicevamo prima sappiamo benissimo quanto sia difficile concedere credito a quanto vi rendiamo conto non c'è ignota la vostra sottile violenza contro di noi e la missione di salvezza che ci è stata affidata qui si apre tutto un capitolo che potremo poi intraprendere la prossima puntata perché adesso c'è una sorta di rivelazione ufficiale della realtà extraterrestre da parte dei nostri governi soprattutto quello americano ma gli scopi sono tutt'altri lo abbiamo visto dalle azioni che hanno messo in pratica leggi misure restrittive tutta una informazione che si sta dirigendo verso canali poco appropriati e abbastanza mendaci che riguardano questa realtà completo il messaggio Vincenzo ci sono altrettante note le persecuzioni che tramate contro coloro che sono messaggeri della nostra volontà scelti ed illuminati per supremo volere dell'Avatar Cristo che si approssima a visitare la Terra ancora una volta vi invitiamo ad essere attenti e ravveduti perché come vi abbiamo già detto non ci sono agnelli da sacrificare la nostra tutela su chi è stato investito di santo spirito è sempre presente e carica di severa giustizia quindi non sono infinitamente amorevoli questi esseri sono anche giusti come lo è anche il nostro Dio che è stato sempre descritto come un agnellino pacifico misericordioso che perdona tutti no ci sono delle leggi ciò che è giusto è giusto questo lo attiviamo anche nella nostra giustizia terrestre Vincenzo cioè non ci deve meravigliare ci sono le ultime righe i figli di Dio in missione sulla Terra oltre ad essere esentati da tentazioni sono aureolati di potenza e di gloria per volere di colui che è e qui si apre tutto un altro capitolo che dimostra il fatto per il quale noi siamo consapevoli sereni e tranquilli perché adoperiamo in maniera anche da un certo punto di vista tutelata perché quando ti inserisci in un discorso di missione succede cosa che tutto il karma che tu hai accumulato nelle vite precedenti e in questa riceve una forma di accelerazione pazzesca e inizi a risolverlo nel giro di pochi anni ed entri direttamente in una questione di missionaria ecco nelle questioni di missione il karma viene messo da parte proprio perché devi essere operativo e deve essere utile da che questa opera intergalattica si ponga al fine precedentemente cercato ok poi state guardinghi a non scagliarvi contro il sangue dei giusti a non ripetere gli errori del passato pregate piuttosto affinché la luce della giustizia dell'amore e della pace fermenti nei vostri cuori e nelle vostre anime per la gloria del regno di Dio in terra ecco questo è il comunicato che risale al 79 e contiene dentro di sé ore e ore e ore di conversazione per poter raggiungere quello stato di consapevolezza di cui parliamo sempre che chi ci segue magari alle prime volte non sa neanche di cui parliamo è come una scuola tu quando inizi la scuola non sai scrivere non sai leggere e hai timore quando uno ti presenta un foglietto di carta ecco no quando hai gli strumenti sei tranquillo sai come agire e sai come comportarti come reagire anche alle situazioni senti due parole sul karma perché ho notato che moltissime persone hanno difficoltà con questo termine nel senso che hanno poca dimistichezza con la questione della reincarnazione no molti addirittura non sanno che probabilmente noi siamo delle reincarnazioni cioè abbiamo scelto di vivere in quest'epoca e in questo corpo e che praticamente in base alle vite passate che noi abbiamo vissuto adesso abbiamo quasi una sorta di pena da scontare ti piace la definizione è una allora sì conseguenze che pene che noi ci auto infliggiamo ma più che pena sì perché è una diciamo è una sofferenza che tu che tu metti in atto perché hai eseguito una serie di azioni non consene alle leggi quindi c'è una sorta di accumulo di tutte queste energie che tu attrai verso di te il karma ce lo portiamo nelle vite dalle vite precedenti e ce lo ritroviamo nelle vite che magari sono quelle di oggi e guarda ci sono tante testimonianze di bambini che ricordano di altre vite addirittura chi magari ha eseguito azioni un po' nefaste si ritrovano addirittura segni sul proprio corpo che vogliono ricordarli di questa cosa io fin da piccolo facevo dei sogni particolari li capisco soltanto oggi ed erano magari a volte episodi in cui sono morto episodi in cui sono vissuto episodi in cui ho conosciuto persone che oggi rincontro ecco il karma è una serie di situazioni che noi stessi ci provochiamo ma sono più che altro errori errori come diciamo prima il semplice esempio del mettere la mano sul fuoco nel momento in cui tu metti la mano sul fuoco cosa succede innanzitutto prendi consapevolezza che non lo devi fare più quindi un'azione mentale e poi ti dovrai subire le usioni sul tuo corpo ecco il karma vediamolo così come un'azione conseguenziale a quello che noi compiamo quindi piano piano dovrai soffrire le tue ferite dovranno rimarginare e ti ricorderanno attraverso questo dolore quello che tu hai fatto perché la mente funziona e imprime le proprie conoscenze sulla base delle esperienze più queste sono forti e più si imprimano perché perché il karma risponde anche al modo in cui tu agisci nelle seconde possibilità che ti dai più sbagli e più poi l'errore che dovrai scontare sarà più forte perché o lo impari o lo impari se no non vai avanti guardate che potenza che c'è in quella affermazione che le questioni karmiche sono un attimo messa in stand by io lo semplifico così che potenza che c'è in quello scorcio di messaggio che Sante ha letto poi ovviamente mi sembra ovvio che dobbiamo vedere nel bene o nel male a prescindere dai nostri carichi karmici personali dobbiamo imparare a vedere la nostra esistenza come una tela da disegnare ce l'abbiamo davanti bianca lì limpida e dobbiamo disegnare il nostro futuro anche perché quello che noi lanciamo in aria ci ritorna in basso medesimamente abbiamo fatto l'esempio della mela ed era molto molto chiaro ecco che se noi lanciamo dei buoni propositi ci torneranno indietro cioè siamo noi gli artefici siamo noi i disegnatori di questa tela esatto Vincenzo come dicevamo anche nelle altre puntate noi siamo artefici della nostra vita nel momento in cui si raggiunge si raggiungono determinate verità le si interiorizzano si metabolizzano noi potremmo essere in grado anche di plasmare il nostro futuro di attirare determinate situazioni e anche di ripulire il nostro passato i nostri errori imparare da loro la potenza per il quale il karma in una situazione in cui ci addentriamo in determinati percorsi di servizio al cielo si è una manovra potentissima ma bisogna ecco meritarsela bisogna comprenderla questo percorso Vincenzo è è duro non è semplice questo bisogna capirlo Cristo ce lo diceva la via stretta ma senza la sofferenza e sacrificio ragazzi i risultati non si ottengono ma è giusto che sia così perché il cielo ha messo in atto una vera e propria selezione ci mette la prova costantemente perché nel momento in cui tu metti una potenza devastante nelle mani di un ignorante di uno stupido lo vedi cosa succede oggi l'essere umano è un bambino capriccioso che ha in mano una forza distruttiva pericolosissima e tu non puoi mettere in mano determinate verità determinati strumenti determinate potenzialità in mano ad una persona che non è cosciente quindi devi fare una serie di esami una serie di prove come negli esercizi militari no devi fare delle prove di di tolleranza allo stress psicofisico e poi puoi addentrarti in una situazione un po' più serena no perché sei consapevole sei cosciente e sai come affrontare le dinamiche della vita e quindi sì dobbiamo imparare a dominare noi stessi per poter dominare la nostra vita questo è importantissimo dominare noi stessi e questa mi sembra l'epoca della responsabilità una cosa a cui noi esseri umani abitualmente ci sottraiamo no perché normalmente tendiamo sempre a dipendere da qualcuno esempio se usiamo l'auto dipendiamo dal petrolio se dobbiamo comunicare dipendiamo dal gestore telefonico insomma c'è sempre qualcuno o qualcosa da cui dipendiamo sono veramente poche le cose probabilmente si possono contare sulle punte delle dita che riusciamo a fare in assoluta autonomia penso ad esempio ad andare in bicicletta ti muovi con la tua forza ecco non dipendi dal petroliere non dipendi era un esempio per dire che proprio questa mancanza di responsabilità negli esseri umani probabilmente insita nel nostro modo di essere ci sta portando anche questa alla deriva perché se ci affidiamo ad altri nella fattispecie ci siamo affidati a dei politici che se ne sono infischiati della nostra Costituzione adesso sto parlando dell'Italia ma potrei parlare anche di altri paesi e del buonsenso che ci vuole per mantenere la pace e quindi non ci vuole nemmeno una mente eccelsa per capire che la comunità umana ha bisogno di pace non ha bisogno di guerra la guerra distrugge la pace costruisce certo Vincenzo guarda quanti minuti abbiamo ancora? un po' di minuti li abbiamo un ultimo intervento e poi facciamo i saluti perché oggi il tempo è scivolato via velocemente esatto guarda sulla base del fatto che noi oggi diciamo che siamo in guerra ti vorrei leggere un po' di dati per prendere consapevolezza che in realtà in guerra ci siamo sempre stati e mi voglio concentrare soltanto sugli ultimi 50 anni che comunque sia sono i più devastanti della storia umana allora guarda ti leggo qualche guerra che sono state in atto e sono ancora in atto oggi allora Inace è una provincia autonoma dell'Indonesia si stima fino a 90.000 morti Afghanistan quasi 190.000 morti Algeria 150.000 morti Burundi 300.000 morti ed un milione di sfollati Colombia 400.000 morti negli ultimi 40 anni Congo Costa d'Avorio Egitto Eritrea Filippine Yemen Iraq Israele Palestina Libia Kashmir Kurdistan Necai Nigeria Repubblica Centraficana Siria dal 2011 300.000 morti Somalia Sudan Ugan America Colombia Venezuela l'elenco continua Vincenzo quando mai siamo stati in pace capisci che siamo in una situazione che fa ridere ai polli parliamo costantemente di pace parliamo costantemente di rispetto dei diritti umani eppure non diamo da mangiare ai nostri bambini li lasciamo morire di fame le tecnologie sono messe solo al servizio dei potenti dei ricchi quindi finché come hai detto tu ci mettiamo in mano a politici anche sanguinari sono dei sanguinari sono dei violenti sono dei truffatori bugiardi fin quando noi non capiamo che siamo in mano a certe persone e non capiamo che il potere ce l'abbiamo in mano noi il popolo non andremo mai avanti quindi anche lì e voglia sperare che un terzo incomodo che abbiamo detto il civiltà extraterrestri intervengono loro possono intervenire già da domani se almeno la maggioranza del tutto il popolo mondiale inizia a desiderarli quindi quando chiediamo perché non scendono perché non intervengono chiediamolo a noi stessi chiediamolo a noi stessi perché tutti i giorni noi facciamo sì anche ignorando anche non informandoci o informandoci male che diamo il consenso che tutto questo succede guardiamoci intorno perché non esiste quello che la tv ci sta rappresentando la tv ci sta mandando sul baratro sul precipizio di un abisso dal quale potremmo non realizzarci più per millenni e migliaia di anni perché ricordiamoci che la vita non finisce qui la vita non è solo una come parlavamo prima di karma di conseguenze dopo questa vita si entra in una sorta di ragionamento su tutto quello che abbiamo costruito e niente è impunito sia in positivo che in negativo quindi facciamo attenzione poi c'è sempre la possibilità di ritornare nei propri passi ma come abbiamo detto una volta che ci bruciamo poi l'usione te la tieni e te la devi curare questo è il problema ma è stata più vera l'affermazione la luce sei tu e anche perché invito gli ascoltatori e le ascoltatrici per un attimo a fissare dritti negli occhi i vostri figli e a chiedervi e a chiedere loro se state facendo a sufficienza per tutto quello che sta capitando il nostro pianeta nessuno dovrebbe avere nulla da rimproverarsi nel futuro prossimo perché queste informazioni ci sono state date perché se le abbiamo ignorate magari non è tutta colpa nostra però adesso che ce le abbiamo noi vogliamo portarle ogni settimana nelle vostre case con gli strumenti più consoni per raggiungervi ovunque voi siate in questo momento siamo in diretta radio su Indie Life Radio che ringraziamo come sempre per lo spazio che ci concede settimanalmente il venerdì alle ore 22 ma questa puntata sarà disponibile sui canali di Sante io non so più quanti e quali io menziono sempre tu vorresti anche un attimo darmi un'assistenza per ricordarmi oltre a Progetto Coscienza Cosmica il canale YouTube ce ne sono altri allora noi abbiamo il sito internet www.progettocoscienzacosmica.com dove ci sono molti articoli illuminanti c'è il canale YouTube il canale Facebook e Instagram queste puntate vandranno in diretta in prima visione video tutti martedì alle ore 21 sia su Facebook che YouTube scrivete Progetto Coscienza Cosmica ci siamo solo noi bene ringraziandoti ancora per il tuo intervento di oggi augurandoci che presto si possa tornare ancora a chiacchierare amabilmente del più e del meno ma non solo perché come vedete ecco nel nostro dialogare ci sono anche dei passaggi molto profondi oggi secondo me la lettura di questi messaggi almeno per conto mio è stata illuminante anche se li conoscevo devo dire che visti con la prospettiva di questi giorni di queste ore di queste difficoltà che tutta l'umanità sta attraversando sono illuminati da una luce diversa Vincenzo siamo un palazzo vecchio che va rasato al suolo e bisogna ricostruire un altro bisogna ottenere coscienza di questo partendo tra questo possiamo fare tutto gli operai che devono ricostruire devono avere un bel da fare insieme guarda insieme tutto diventa più facile l'importante è stare insieme se no ci si perde grazie veramente di cuore Sante Pagano è stato ancora un piacere ospitarti e saluto anche tutti i follower di Sante Pagano ma anche gli ascoltatori di Indie Life Radio che sono state presentemente in ascolto grazie a tutti un caro saluto a tutti e un abbraccio grande alla prossima e pace su tutte le frontiere assolutamente grazie a tutti grazie a tutti